Musica Ci ringraziavano così, 25 anni fa quando siamo nati. Sì perché eravamo lì, quando si festeggiavano muri che ci hanno messo più di 40 anni per cadere. E siamo qui oggi, con dei muri per crescere, ci mettono una notte. Eravamo lì quando il progresso sembrava andare velocissimo. E siamo qui oggi che le cose corrono davvero. E l'importante non è stargli dietro, l'importante è corrergli davanti. Ma tu ricorderai soprattutto altre cose. Ricorderai che eravamo lì, quando nasceva un nuovo papà. Tu. E che siamo qui adesso che sta per nascere un nuovo nonno. Sempre tu ovviamente. Eravamo lì quando tua figlia da piccola si è ammalata. E appena guarita, ha voluto scriverci lei. E siamo qui, oggi, per dirti che da 25 anni, alla salute tua e dei tuoi cari, continuiamo a pensarci noi. Perché Assi Dai è un fondo di assistenza sanitaria non profit. E questo vuol dire che per noi la salute non è una questione di profitto. È una questione di qualità della vita. Una tutela che ti accompagna per sempre. E quando ne hai bisogno, Assi Dai non si tira indietro. Né davanti all'età, né davanti alla non autosufficienza, né davanti a nessuna malattia. Deve essere per questo, se oggi assistiamo più di 120.000 persone, oltre 52.000 famiglie, più di 1.500 aziende. Ed è per questo che ognuno di loro ci ha scelto. Perché l'adesione ad Assi Dai è una scelta volontaria. Eravamo al tuo fianco 25 anni fa, quando nascevamo come Fondo Integrativo del Fasi, creato da dirigenti per dare di più ai dirigenti. Siamo qui oggi, a dare di più anche ai quadri, ai professionisti, ai dipendenti e alle loro famiglie. E ci saremo domani, accanto a te, accanto ai tuoi figli, ai figli dei tuoi figli. Certo, tante cose sono cambiate in 25 anni. E cambieranno ancora. Solo una cosa è rimasta uguale. Quello che, in modi diversi, ma sempre più spesso, continuiamo a sentirci dire da voi. Grazie. Assi Dai Da 25 anni Il Fondo di Assistenza Sanitaria per il tuo benessere